Il leader di Italia Viva parla al Senato. Storia volge al termine. Serve governo più forte. È il giorno della prova del Senato per il governo Conte Bis. La più difficile. Dopo lo strappo di Matteo Renzi. E il leader di Italia Viva prende la parola poco dopo le 17.30 nell'aula di Palazzo Madama. Pensiamo che per la drammaticità della pandemia. Della tragedia. In corso. Ci sia bisogno di un governo più forte. Non basta la narrazione de. Gli altri paesi ci copiano. Siamo un modello. Sono state le parole d'esordio dell'ex premier. Che ha aperto la crisi ritirando i suoi ministri Bellanova e Bonetti dal governo. Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso. Ha affermato. E ancora. Noi non abbiamo chiesto a lei di essere accontentati. Abbiamo chiesto di aprire in Parlamento un grande dibattito sul futuro del paese. Ma lei ha avuto paura di salire al Quirinale. Perché ha scelto un arrocco che spero sia utile per lei ma credo sia dannoso per le istituzioni. Ha continuato il leader di Italia Viva. Ora o mai più. È il leitmotiv di Renzi. Saremo maledetti dai nostri figli se non investiamo sulla scuola. Se non investiamo sulla sanità. Ora o mai più continua il leader di Italia Viva perché questo è l'anno del G20 in Italia. E. Ancora. Ora o mia più per l'economia. Abbiamo il 160% di debito e i ragazzi pagheranno il conto più di altri di questa crisi. Ora o mai più per il mes. Chi perde Conte? Conte. Renzi. Ivi. Ha attaccato ancora Renzi mi viene in mente zio crocifisso riceve la notizia che nella battaglia qualcuno è morto. E chi è che ha perso? Nessuno. Noi non abbiamo perso niente. È l'Italia che sta perdendo la più grande occasione. Le poltrone. Gli incarichi passano. Questa occasione no. Un intervento di 20 minuti quello del senatore toscano. In cui ha detto tra l'altro. Le chiedo. Faccia un passo in avanti. Non trasformi. La crisi. Solo in una mera distribuzione di incarichi. Io capisco che lei arrivi alla politica al primo incarico da premier. Le è mancata la gavetta. Le battaglie vinte e perse. E lei immagina che la politica sia davvero solo l'arte difficile del governo. Ma in questa arte del governo non possiamo limitarci a dare una poltrona all'uno e all'altro. Lei ha dato più questa impressione. Quando sono venuto a trovarla? Lei mi ha detto con grande gentilezza se ero interessato a incarichi internazionali. E io le ho detto di no.